Good morning Genova! Eccoci all'appuntamento settimanale con la rubrica Restiamo con le donne. Io sono Anna Lucia Di Masi e sono un'operatrice del centro antiviolenza Mascherona. Oggi vogliamo comunicarvi una buona notizia. Mercoledì 10 giugno riapriremo la nostra sede in piazza Colombo 3, interno 7. In realtà, come saprete, la nostra attività di sostegno alle donne che subiscono violenza non si è mai fermata. In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo garantito accoglienza, supporto ed assistenza in via telematica. Abbiamo trasformato la nostra modalità di intervento con un incremento notevole del lavoro delle operatrici per mantenere un contatto assiduo e presente pur nella distanza. Nelle prime settimane c'è stato un calo delle telefonate. Abbiamo fatto perciò di tutto per far sapere alle donne che i nostri servizi erano comunque attivi, consapevoli che la quarantena non avrebbe fermato la violenza. Effettivamente, le donne hanno poi ricominciato a chiamarci. Le richieste arrivate, soprattutto in quest'ultimo periodo, sono state per lo più di emergenza. Donne che subivano una violenza molto grave e con un pericolo imminente. Siamo riusciti a trovare loro una sistemazione immediata in alcune case vacanze che, attraverso la rete non una di meno Genova, sono state messe a disposizione del nostro centro. Quindi, da mercoledì 10 giugno riprenderemo i colloqui in presenza, nel rispetto ovviamente delle distanze e utilizzando i dispositivi di protezione sanitaria. Sono state disposte tutte le misure atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e a salvaguardare la salute delle donne e delle operatrici. Per evitare assembramenti, è comunque preferibile prendere un appuntamento chiamando allo 010 58 70 72 oppure al 349 11 63 601. Nei casi in cui non sarà possibile svolgere un colloquio in presenza, continueremo ad utilizzare, in questi casi, i mezzi telematici e a svolgere colloqui via Skype e WhatsApp. Gli orari di apertura del centro, ricordiamo, sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Grazie e good morning Genova! Grazie a tutti!